Sono passati effettivamente nove anni, noi abbiamo sposato dal primo giorno l'impegno con l'agri-sport e con il professore Veletti e lo ringraziamo spesso anche dell'invito perché ci dà l'opportunità e soprattutto alle fasce più deboli che sono i giovani di trovare un momento di aggregazione e soprattutto di confronto che spesso non si ha oggigiorno con le varie tecnologie che ci sono in giro. I bambini spesso si distaccano da quello che è la vita reale per innamorarsi o incandarsi di quello che tutto gli propone il web, la tv, tutti i prodotti che in un certo senso sì hanno fatto bene un po' nell'evoluzione della cultura ma spesso danno anche gravi danneggiamenti alla socializzazione che sono una cosa fondamentale per i più giovani. Lo sport è comunque fonte di benessere generale, non è solo una cosa fisica ma anche mentale, serve spesso per scaricare le tensioni, gli umori e non serve solo ai più giovani ma a tutti quanti, perciò lo consigliamo perché è un momento non solo aggregativo ma soprattutto di rilassamento fisico. Mente sana, incorpore sano, questo è quello che dicevano i greci, voi siete sempre presenti sia per il fisico ma anche per la mente. Sì sicuramente, la cosa fondamentale non è solo esserne presente ma anche fare delle campagne di prevenzione, questo forse è fondamentale perché oggi la cultura ci sta un po' abbandonando questo momento, il fatto di fare attività sportive e farla all'esterno, nella natura, tutto quello che ci propone il nostro territorio è sicuramente una cosa importante. Oggi farete anche una dimostrazione di rianimazione e di uso del defibrillatore, importante per nelle scuole soprattutto e importante anche nella pratica sportiva. Sì sicuramente l'uso del defibrillatore è essenziale perché un arresto cardiaco può succedere in qualsiasi momento, non è vero che è per forza sotto sforzo e fortunatamente a Gela ci sono quattro scuole che sono cardioprotette. È stato fatto un progetto qualche anno fa dove noi abbiamo formato anche gli insegnanti e ogni due anni facciamo refreshing. È importante anche per le associazioni sportive, finalmente lo Stato italiano ha capito le esigenze, ha dato l'obbligo a tutte le varie associazioni, sia sportive o non, di munirsi di un defibrillatore perché ci sono stati tanti casi di morte improvvisa, di gente che si sarebbe potuta salvare con una presenza del defibrillatore e soprattutto del personale formato. Lo scopo fondamentale di queste campagne, anche spesso quando facciamo noi le informazioni, i corsi, è proprio che più gente conosce e sa è più facile salvare una vita. Significa che un giorno sono io a salvare te, ma un giorno potrei avere necessità io, perciò più gente conosce, più sa e più facile che una vita si salvi.